Sindaco, un incontro con una delegazione di tifosi questa mattina qui in municipio sulla situazione del termocalcio, qual è attualmente lo stato dell'arte? Sì, un incontro, un confronto che nasce da un'esigenza di conoscere la situazione, l'evoluzione della situazione anche in vista dell'assemblea di lunedì, ovviamente non ho potuto far altro che ribadire, rappresentare quanto già detto pubblicamente in merito alla vicenda, una vicenda ovviamente complessa, lo sappiamo tutti, secretata perché ovviamente gestita all'interno di una procedura di sequestro, l'obiettivo assolutamente è che si possa arrivare prima possibile a una proposta concreta di un progetto che consenta l'iscrizione. I tifosi hanno chiesto qualcosa in particolare a lei come sindaco? Ma sono le domande che ci poniamo tutti in realtà, insomma, chiarimenti, informazioni su quella che è la situazione. Fin dall'inizio, nel rispetto istituzionale dell'attività dell'amministrazione giudiziaria, non ho fatto altro che ribadire quanto pubblicamente e in modo trasparente faccio dall'inizio. Ripeto, chi deve fare proposte, progetti per l'iscrizione, le faccia subito perché ovviamente il tempo sta per scadere. E lunedì è decisiva, non si può andare oltre poi, giusto? Lunedì è un passaggio importante, chiaramente potrebbe essere decisivo, ma insomma, vediamo, è comunque un passaggio importante perché un'assemblea dei soci che farà il punto su quello che è lo stato dell'attività fino adesso, ovviamente con delle scadenze e dei tempi che sono molto stringenti. Quindi è necessario assolutamente intervenire subito, chi può e chi deve, per salvare la Teramo Calcio.